appunto già facendo anche attraverso i nostri adele di innovazione, la casa delle tecnologie emergenti ha un luogo preposto alla incubazione e accelerazione di startup che sviluppano applicazioni basate su 5G e al trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese. Quindi le startup per noi sono un ottimo bacino dove prendere proprio idee e dove possiamo e vogliamo collaborare, con le quali vogliamo collaborare insieme e fare ricerca. Abbiamo fatto anche dei giochi, possiamo chiamarli così, dei test, volti proprio a misurare quanto il ragazzo riesce a, ma anche gli adulti insomma, quindi quanto si riesce a distinguere ciò che produce l'intelligente artificiale da quello che poi è invece il contributo dell'intelligenza umana ed emerge con forza che la distinzione comunque c'è. Cioè in questo gioco è emerso che il ragazzo riesce a distinguere quando il contributo proviene dall'ingegno umano e quando invece proviene dall'intelligenza artificiale. È un tema che ormai viviamo tutti i giorni, quindi è anche toccare con mano appunto la quotidianità e ci è piaciuto molto e siamo molto soddisfatti del festival. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.